E bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, in questo video qua siamo sull'app del Fanta Calcio per fare il recap di questa settima giornata di Serie A Team. Prima di iniziare il video vi ricordo di seguirmi, di attivare la campanellina sia su TikTok che su YouTube, di lasciare un bel like per supportarmi, di condividere il video con tutti i vostri amici, di andarmi a seguire su tutti gli altri social. Grazie mille a chi lo farà, per chi di vuoi fare il Fanta Calcio scrivete nei commenti se avete vinto, perso o pareggiato la giornata. Noi perdiamoci ultimamente i chiacchiere e cominciamo con il video, modulo 3-4-3. In Porto ho deciso di dare fiducia a Montipò e di lasciare in panchina Provedel, infatti la mia fiducia è stata ripagata con un 8, quindi con l'imbattività portiere contro Italino con uno 0-0. Partendo da destra in difesa abbiamo Faraoni che comunque prende il 6, che comunque il suo lo riesce a fare, strappa la sufficienza, indica che deluda ancora che prende un 5,5 mentre Nathan prende un solido 6,5. Chissà se strapperà il posto da titolare a Juan Jesus anche quando tornerà dall'infortunio. Al centrocampo, anche stavolta da destra, abbiamo Filipe Anderson che prende un deludentissimo 5,5, un'altra insufficienza da un campione come lui. Zielinski prende 8 portando anche un assist, quindi veramente un calciatore da avere sempre in rosa titolare. Mentre gli altri due, Arthur Melo e Folo Ruscio, entrambi prendono un solidissimo 6,5. Anche loro due veramente solidi i calciatori. Poi abbiamo Turam. Bene, Turam delude e prende 5,5. Idem per Ngonge e Bonazzoli purtroppo contro il Torino non gioca, non è presente in campo in questa partita e al suo posto lo prende Bregalo con un 6. Fatto sta che la partita l'ho pareggiata 2-2 e arriva a 3 punti in 4 partite con 3 pareggi e una sconfitta. Da me è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Bella!